Città di Castello si illumina d'immenso, un'immensità che profuma di tartufo, conferenza stampa di presentazione a Roma, via Giulia, presso Achilli, ma soprattutto la prima settimana di novembre è dedicata ad un percorso molto importante per il territorio di Città di Castello. In che senso Assessore? Sì, come Città di Castello siamo arrivati alla 39esima edizione di quella che è una mostra a livello nazionale sul tartufo e come città abbiamo la fortuna, come territorio abbiamo la fortuna di avere nei nostri boschi, di ospitare questa preziosità enogastronomica italiana tutte le stagioni. Infatti abbiamo scelto lo spot per quest'anno promozionale, le quattro stagioni del tartufo, perché appunto se venite a Città di Castello potrete degustare nei ristoranti le varie tipologie di tartufo a seconda della stagione in cui verrete. Chiaramente questa è soltanto una delle nostre ricchezze, anzi è una ricchezza che ci permette di svelare le altre. Città di Castello è una città prettamente rinascimentale, un po' diciamo non in linea con le altre dell'Umbria, è una città che eredita il suo patrimonio architettonico dalla vicina Firenze e quindi si presta come un elemento di novità all'interno del panorama architettonico della regione Umbria. È una città anche particolarmente fortunata con l'arte perché ha una pinacoteca dove ci sono opere di Raffaello, che è stato molti anni a lavorare a Città di Castello nella sua carriera, e anche di Signorelli. Mentre dall'altro canto sull'arte contemporanea abbiamo dato i Natali a Alberto Burri e anche a Nuvolo, quindi riusciamo anche a coprire con due nomi di spicco quello che è il mondo immenso dell'arte contemporanea. Quindi abbiamo questa fortuna di avere questo patrimonio da sviluppare, quindi anche da questo nasce il dovere di avere una promozione che raggiunga più possibile i visitatori, i turisti, perché abbiamo tanto da offrire e il tartufo è soltanto una di quelle cose che poi ci permette di svelare le altre. Normalmente ecco che cosa vi aspettate a livello di gettito e di portata come ricaduta su questo territorio? Numeri di turisti o di comunque persone interessate vi aspettate di ricevere sul territorio proprio in questo periodo, in questa occasione? Sì, è un periodo molto ricco di eventi, è un periodo che anche grazie a qualche ponte nel calendario ci permetterà di avere molti turisti, quindi ci contiamo molto. Diciamo che comunque l'Umbria è così piccola, quindi è facile visitarla in pochi giorni. E' una regione disseminata di bellissime città, quindi noi siamo al nord e credo che nel mese di ottobre ci saranno molti turisti, anche perché ci saranno tante manifestazioni oltre a quella del tartufo. Ci sarà anche una manifestazione sul cioccolato, una manifestazione sul fumetto, quindi abbiamo un mese molto ricco di eventi. Questo chiaramente spinge molto il turismo, noi siamo convinti di poter offrire molto. Chiaramente il nostro è un turismo qualificato, un turismo di nicchia, che è un turismo che va a cercare l'arte, va a cercare i patrimoni architettonici e va a cercare anche le ricchezze no gastronomiche come il tartufo bianco, diciamo è un esempio molto importante. Quindi sì, come turismo stiamo attraversando un periodo che viene dopo un periodo difficile per le regioni del centro Italia, tutti sappiamo il perché, ma c'è una ripresa anche perché, come ho detto prima, le cose da offrire sono veramente tante e noi cerchiamo, abbiamo il dovere di promuoverle. Grazie! Grazie!